Scrivi l'equazione della retta R passante per A per il punto A di coordinate meno 3,0 per il punto B di coordinate 1,2. Determina l'equazione della retta S parallela ad R e passante per il punto C di coordinate 2,5 e della retta T perpendicolare ad R e passante per il punto D di coordinate 6,2. Indica poi con R ed S le intersezioni di T con R ed S e determina l'area del quadrilatero ACSR. Il problema avanza sembrerebbe difficile, lungo, ma in realtà è sempre la solita a salsa, l'abbiamo visto fino a questo momento, diviso in più parti e il terzo ultimo, li vedremo tutti quanti, questi di questa pagina, così da far contenti tutti i docenti che non possono assegnare, no sto scherzando ovviamente, a parte che non tutti i docenti sanno dell'esistenza del canale, ma anche qualora lo sapessero, voglio dire, basta dare fiducia ai propri ragazzi, ai propri studenti. I ragazzi, lo dico soprattutto a voi, che seguite, non copiate quello che io vi dico, ascoltate la spiegazione, dopo che voi ovviamente, dopo aver ascoltato la spiegazione del vostro profo, della vostra profe, dopo che avete risolto voi il problema. Altrimenti è inutile che voi guardiate questi, perché poi comunque il giorno del compito in classe, che fate? Non ci sono mica, non abbiamo ancora inventato la maniera per... Allora, cominciamo a calcolare l'equazione, a scrivere l'equazione della retta R, passante per i punti e B, classica formula della retta passante per i due punti. La scriviamo. Y meno Y con 1, fatto Y con 2, meno Y con 1, uguale a X meno 1, fatto Y con 2, meno Y con 1, dove ad esempio, Y con 1 e Y con 1 sono le coordinate di A meno 3 a 0, e Y con 2 e Y con 2 sono le coordinate di B, per esempio, 1, 2. Pertanto, vediamo chi è R, Y meno 0, quindi Y, fratto 2 meno 0, 2, uguale a X meno meno 3, quindi X più 3, fratto 1 meno meno 3, quindi 4. Allora, intanto, moltiplicherei per 2 entrambi i membri di questa equazione, scrivendo quindi che 2 mezzi è 1, quindi Y uguale a 1 mezzo, e moltiplicherei per X più 3. E pertanto, abbiamo già trovato l'equazione in forma esplicita, per esempio, non ci viene, per la verità il testo ce la dà in forma, scriviamola, che va a scrivere in forma esplicita per Y, varia 1 mezzo X più 3 mezzi. Qualora vogliate scriverla in forma implicita, basta moltiplicare per 2 entrambi i membri, portare questi termini a sinistra, e scrivere, quindi che X meno 2Y più 3, avremo un meno X meno 3 più Y uguale a 0, appunto un X meno 2Y meno 3 uguale a, un X meno 2X più 3 uguale a 0, farlo a mente, ma basta farlo e lo si fa. Io però la lascerei in forma esplicita, il testo ce la dà in forma implicita. Calcolato R ci dicono di calcolare, determinare l'equazione detta S parallela ad R e passando all'altro punto C. Questa volta utilizzerei l'altra formula, quella del cosiddetto fascio proprio diretto, ovvero questa, la scriviamo qua. La scritta. A mezza e mezza, la scritta. Y meno Y uguale a M di S, in questo caso per X meno 2X, dove M di S è M di R, perché le due rette sono parallele quando hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi basta scrivere che S è del tipo Y meno meno 5, quindi Y più 5 uguale a un mezzo, vedete, che moltiplica X meno 2. moltiplicherei per 2 entrambi i membri, scriverei 2X meno più 10, 2Y più 2 per 5, quindi più 10, uguale a X meno 2, questa volta S. Io la scriverei in forma implicita, per esempio. Sì? qui va bene, ma è uguale, se non ve lo chiedo in particolare, scriverei in forma implicita e implicita, potete fare quello che volete. Quindi porterei questa volta, questi termini dalla parte sinistra, scriverei X meno 2Y, meno 12 uguale a 0, che infatti è proprio il risultato con bar del test. Mancherà T, mi sembra, sì, poi scrivono la letta T perpendicolare a R, passando per D, 6 e 2. Questa volta cosa cambia? Che due rette sono parallele e si hanno lo stesso coefficiente angolare, sono perpendicolari e si hanno la coefficiente angolare l'uno, l'antidecipito dell'altro. Che significa? Vuol dire ribaltarlo e cambiarlo di segno. Quindi, in questo caso, scriverei che T, lo scrivo qua, ha Y meno 2 uguale a M di T, che moltiplica X meno 6. Ovvero, dunque se M di R e M di S valgono entrambi, in tali casi, un mezzo, avremo che Y meno 2 sarà uguale a meno 2 che moltiplica X meno 6, vedete? Da un metro si passa a 2 e lo scambio di segno, l'antidecipito. Ovvero, Y uguale a 2, meno 2X più 12, l'ho moltiplicato e ho parlato di 2 nella parte destra e l'ho cambiato di segno. Anche T la scriverò, per esempio, in forma esplicita, sarà Y uguale a meno 2X più 14. Il testo, invece, ce l'ha anche questa forma esplicita. Bene, RS e T le abbiamo scritte. Poi ci dicono, attenzione, di indicare con RS i punti di intersezione di T con RS. Allora, intanto andiamo a intersecare. Dunque, R maiuscolo è un punto di intersezione di T, che vedete scrivo appositamente in forma, mi sono scritto in maniera conveniente in forma esplicita, Y uguale a meno 2X più 14 con R minuscolo, quindi non è terra, ovvero Y uguale a mezzo X più 3 mezzi. Se vedete, ovviamente, sono incidenti, perché sono anche tra di loro proprio indicolati, ce lo dice il testo. Applicando, ad esempio, il metodo del confronto, quindi lasciando, per esempio, ferma, Y uguale a meno 2X più 14, scriveremo quindi meno 2X più 14, uguale a un mezzo X più 3 mezzi. Allora, per prima cosa, moltiplicherei per 2 entrambi i membri di questa equazione, avendo, tenendo un meno 4X, 2 per 14 è un 28, uguale a X più 3. E a questo punto, direi che, quindi devi portare, vale così, 28, meno 3 uguale a X, più 4X, per esempio, portando in pratica questo a destra e questo a sinistra. viene un 28 meno 3, che è un 25, uguale 5X. E 5X uguale a 25, dividendo per 5, ulteriormente, otteniamo che X è uguale a 25 quinti, o meno 5. Quindi l'ascista di R è 5. Tendolo lì, otteniamo che Y è uguale a, guardate, meno 2 per 5, meno 10, meno 10 più 14 è 4. L'ordinata è 4. R a coordinate 5 e 4. Poi ci dicono S maiuscolo, un altro punto, che questa volta è l'intersezione di T con S. Quindi T è sempre questa, ed S questa volta ce l'abbiamo in forma implicita. Ovvero X, meno 2Y, meno 12, uguale a 0. Applichiamolo questa volta il metodo di istituzione, che è molto simile, parente o il confronto. mettiamolo qui, diamo X, meno 2 che moltiplica meno 2X, più 14, meno 12 uguale a 0. Allora, risolviamo questo, abbiamo X, meno 2 per meno 2X è un 4X, meno 2 per 14 è un meno 28, meno 12 uguale a 0, vediamo che X più 4X è un 5X, meno 28, meno 12 è un meno 40, che poi la tattesa diventa un 40, diventando per 5, viene X uguale a 40 quinti, quindi X uguale a 8, la scista del punto S, vediamo poi qua, è 8, X uguale a 8, andandola a mettere qui, viene con un meno 2 per un 8, fa meno 16, uno 16 più 14 è un meno 2, l'ordinata è meno 2. Abbiamo risposto, ovviamente, tutte le domande. A questo punto cosa facciamo? Beh, a questo punto, potremmo già da prima, in realtà, disegnarle queste rette, ma, diciamo che non c'è bisogno, perché, ci chiedo di determinare l'area del quadrilatero ACSR, va bene? Andiamo a rappresentare, di determinare l'area del quadrilatero, questi quattro punti, ACSR. Dunque, disegnato questo quadrilatero, di cui ancora non si capisce bene, è sicuramente un trapezzo, per quale motivo? Beh, intanto, non si può verificare che sia un trapezzo, andando a vedere come, se calcolo, dunque, notiamo subito una cosa, il segmento AR, è il segmento che è contenuto nella letta R, no? perché è chiaro che, se T, il testo ci dice, la letta R passa per A, no? Qui B non c'è, però ci dicono che, la letta T, no? che è questa, ci dicono essere, non lo trovo più, ci dicono che, T, l'ho perso, è perpendicolare, AR passa per, ci dicono che, ci dicono che T, è perpendicolare a R, passa per D, quindi è evidente che, AR è la letta, AR è la letta contenuta, è la letta R, in pratica, no? È un segmento contenuto nella letta R, RS è la letta T, visto che T è perpendicolare a R, ovviamente, e CS è la letta S, perché ci dice poi il testo che, attenzione, la letta S, a sua volta è parallela ad R, quindi abbiamo, AR e R, CS, S, R, S, T, di conseguenza, trapezio, non trapezio rettangolo, perché abbiamo che, se S è parallelo a R, abbiamo che, un trapezio avente, due lati paralleli, un quadrilato, avente due lati paralleli, è un trapezio, e visto che RS è perpendicolare a, sia R, ovviamente che a CS, visto che sono AR parallelo a CS, avremmo che, quella è un'altezza, quindi basterà semplicemente, per calcolarsi l'area di questo trapezio, ed è un trapezio perché i due lati opposti sono paralleli, calcolarsi la misura di AR, la misura di CS e la misura di RS, base più base, la somma delle due basi, diviso 2, tutto per altezza, che è in questo caso RS. Perché? Uno dice, ma potrebbe essere un, dal disegno, si vede chiaramente come non è, non trattasi di un rettangolo, perché se fate, se fate, se fate, se calcolate il cosciente angolare di AC, trovate che AC, non è, né perpendicolare ad AR e CS, né parallelo a RS, pertanto, niente, non trattasi di un rettangolo, come quella di l'altro, non poteva venire lì in dubbio, ma, se fate bene la figura, io l'ho fatta bene, vedete con la tecnologia, voi la fate bene con le squadre, con le righe, non vi sbagliate. Calcoliamo quindi, la misura della base, che è la base maggiore, questo trapezio, che comunque è da considerare, sul trapezio rettangolo a questo punto, AR, chi è? AR, basta fare la radice quadrata, forma una risananza normale, di un 5 meno meno 3, quindi più 5 più 3 al quadrato, più, un 4 meno 0, quindi un 4 meno 0 al quadrato, ovvero, un radice di, 5 più 3 è 8 al quadrato fa 64, 4 meno 0 è 4 al quadrato 16, viene un radice di 80, ma vi ricordo che, un radice di 80, è un radice di, 2 alla quarta, per 5, quindi un 4 volte, radice di 5, no? Ma di 16 per 5, se lo fate, è proprio 80, e poi mi calcolo anche CS, l'altra base, CS, noto che anche qui, non ho uguaglianza, né di ascise, mi calcolo la, la forma generale, della distanza, faccio un 8 meno 2, e 6, 8 meno 2 al quadrato, che poi è 6 al quadrato, che fa 36, meno 2, meno meno 5, quindi meno 2 più 5 al quadrato, quindi ho un radice di, vedo, 36 verrà più 9, perché ho, 8 meno 2 è 6, al quadrato fa 36, meno 2 più 5, che fa 3, al quadrato fa 9, viene radice di 45, questa volta, radice di 45, è un radice di 9 per 5, quindi un 3, radice quadrata, di 5, e infine l'altezza, che è RS, che i dati comunque di prima, ci hanno consentito, di trovare subito, di che tipo di quadrato, stava parlando, e poi le trovarne nell'area, con la formula dell'area, di un trapezio, RS, in questo caso, attuo anche qua, metto in pratica, la formula generale, della distanza, viene un 8 meno 5, che devo elevare al quadrato, più, meno 2 meno 4, che devo elevare anche se al quadrato, guardate, viene un radice di, nuovamente 9, più 36, viene un 8 meno 5, 3, al quadrato 9, meno 2 meno 4, un meno 6, che al quadrato fa 36, nuovamente viene un radice di 45, nuovamente, un 3 radice di 5, e quindi l'area, di questo, A, C, S, R, vale, AR, più, C, S, tutto moltiplicato, l'altezza RS, tutto diviso 2, ovvero, 4 radici di 5, più 3 radici di 5, tutto che moltiplica un 3, radici di 5, diviso 2, allora, viene un 7, radici di 5, che moltiplica, un 3 radici di 5, tutto diviso 2, radici di 5, radici di 5, è un 5, 7 per 3 è un 21, se fate i conti, magari non sbagliate, viene un, 21 per 5, diviso 2, che si può lasciare così, il testo non lascia così, l'area in effetti è proprio, 105 mezzi, lo scriviamo qui in alto, e questo dato, va a concludere il nostro problema, non difficile, è un po' lunghetto, ma niente di difficile, area pertanto, 105 mezzi, anche se, va a condividere, va a condividere,